Salve a tutti e benvenuti nell'ultimo episodio del mio Let's Play Walkthrough di Trek to Yomi in italiano, o meglio sottotitolato in italiano ma parlato in giapponese perché è l'unica lingua che si può selezionare Questo è l'ultimo episodio, nello scorso episodio avevamo completato il capitolo 5 con anche una boss fight molto interessante alla fine Abbiamo battuto quindi anche il nostro maestro, siamo ancora però nello Yomi e dobbiamo cercare di uscire Ora proviamo a tornare indietro, se si può fare, no non si può fare Intanto voi mi vedete anche abbastanza lontano, prendo delle munizioni per l'arco, ok Forse è per questo che sono qui Io andrei qui a salvare prima di andare avanti però Esattamente Qui infatti troviamo anche un nuovo collezionabile Yutsu Tsumagushi Cos'è, tipo una sorta di pettine? Si dice che Izanagi, il creatore, diede fuoco al suo stesso pettine, esatto Lo Yutsu Tsumagushi Per rischiarare le tenebre dello Yomi e scorgere per l'ultima volta il volto della sua amata Izanami Nonostante questa lo implorasse di non farlo Izanagi non pote sopportare di restare senza di lei Nonostante il terrore di ciò che avrebbe potuto vedere E infatti sappiamo dai collezionabili del primo capitolo Che lui vide una Izanami mostruosa Perché aveva mangiato il cibo dello Yomi Ed era stata corrotta da questo Ok Vai Vediamo poi di riprenderci la mano Stordito E mossa finale Bella lì Proseguiamo in questo mondo Macabro A dir poco O no Ok Ho perso solo un HP contro queste Continuiamo a proseguire Qui possiamo No c'è un altro combattimento Cacchio Devo attaccarlo da lontano Quando fa quella cosa lì Perché perdo un sacco di vita Quando fa quella sorta di scudo No No Non sono riuscito ad ammazzarla Lei prima che evocasse Dei nemici Mossa finale Bella lì Ok Ed ora Muori Bene Proseguiamo Attraverso l'ultimo capitolo Il sesto capitolo Del gioco Che dovrebbe essere l'ultimo A meno che ci siano sorprese Di qua noto un collezionabile No che è un Munizioni per lo zuzu Posso andare ancora un po' più avanti Qui No Non c'è nulla Tra l'altro molto buia Questa ambientazione Molto scura Spero che voi Vi riusciate a vedere bene Su youtube Guardate L'ambientazione è figa Macabra Molto macabra Ci sta E qua si combatte di nuovo Immagino Esatto E riprendo hp Adesso Facendo le mosse finali Mi stordisco con questa combo E recupero gli hp Esatto Faccio un sacco di mosse finali Ora che ho Padroneggiato questa combo Bene così Cadi sette volte E rialzati otto volte E questo che mi è stato insegnato Proseguiamo Vediamo se abbiamo altri collezionabili da raccogliere Non so quanto durerà questo capitolo Vediamo filmato Diario aggiornato Quelli Leggiamo anche la prima parte La morte La morte non ha privato il maestro Sanjuro O semplici E' una cosa E' una cosa E' una cosa E' una cosa Devo impedire alla mia mente Di cedere ai loro ingannevoli sussurri e cercare qualunque verità lo Yomi abbia in serbo per me eccoli altri nemici questo è uno di quelli ombrosi attenti eccolo, eccolo che fa le sue cose da demone ombroso però noi lo finiamo con una mossa finale bene così uh abbiamo anche dei simboli quindi di nuovo un rompicapo come c'erano nel capitolo 5 dobbiamo mettere il segno del, quel segno lì che non so cosa sia e quella sorta di, boh T a testa in giù, F a testa in giù con una base un po' rettangolare però mi serve un altro simbolo forse più indietro lo trovo più, no non credo debba tornare così tanto indietro però guardandomi in giro qui non lo trovo ne vedo solo due di simboli ah eccolo lì sopra, ok non l'avevo visto sopra la roccia quindi c'è quello poi c'è la F a testa in giù con quella base quadrata e il simbolo quello lì ok allora quindi tu poi tu ed infine tu bella la mano che si apre filmato mi 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 Fuggi? Fuggi? Diario aggiornato. Fammi vedere il diario. Questa luce, o spettro, o anima perduta, o qualunque cosa essa sia, sa fin troppo, e rivela troppo poco. Comprende il mio tormento, e mi mostra il sentiero per procedere, ma non ho idea se mi condurrà verso l'uscita da queste lacere profondità, o verso un luogo ancora peggiore. Possibile che tutto debba essere una prova in questo luogo miserabile. Ma devo fuggire davvero? Cioè devo andare via? Oppure interagire con questo? Ok Ho preso dei kunai, bene Una e delle frecce per l'arco, quindi posso proseguire. Vedo della gente impiccata, non è proprio il massimo. Vieni qua Mossa finale No Attacca da lontano lui, bravo Cosa? Quanta vita ho perso? No, beh allora quelli non devo proprio attaccarli quando fanno quello scudo? Non ho capito Quella cosa non si capisce proprio E tu ridammi un po' di HP, va? Bravo, mossa finale Pure tu No, tu muori prima, niente mossa finale Posso andare di qui? No, non posso Devo Farsi che la luce faccia questa sua roba e poi posso passare Wow Posso raccogliere un Proiettile per Onitsu Energia aumentata, ottimo Anche se avrei preferito la salute aumentata E qui sopra c'è forse qualcosa di Secondario Un collezionabile Sì, nuovo collezionabile trovato Vermi Disgustose creature Lo Yomi è una terra di decomposizione e corruzione La terra dei vermi Quando Izanagi scrutò il volto senza vita di Izanami Contro la sua volontà Furono queste immonde bestie a strisciare fuori dalla sua carne e divelta Inorridito da ciò che la sua bellissima amata era diventata Egli fuggì Che schifo davvero Che munizioni raggiunta E noi proseguiamo Qui si combatte di nuovo Eccolo, sì Datemi qualcuno a cui fare una mossa finale, mi serve per la vita Tu? Tu? Tu ne sei uno? Sì Sei uno delle ombre Ho mancato la combo Oh, fatta Vai, mossa finale E mi ricarico Mi sembra quattro punti vita Ottimo Un altro Un altro Ma Allora No Però voglio vedere cosa fa Ok, non devo semplicemente toccarlo quando fa quella cosa Ma I nemici, tutto a posto? Ok Ok Mossa finale Bene così E si continua verso questo strano portale Ok Ok Un'altra bietta illusione Non mi ingannerà Yomi Eh, mi sa che ti sta ingannando, eh Ma dovevo passare di qua? No Di qua è chiuso Muro invisibile Però qui abbiamo un altare Ottimo Attenzione qua, eh Tra l'altro mi sparano Devo ricordarmi questi simboli? No, dai, non è che devo ricordarmi i simboli perché non me li ricorderò mai Via, 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 prima che ti colpiscono le frecce Vai, mossa finale Bella lì Aia, mi ha preso una freccia Qui cosa Un nuovo collezionabile Ottimo Vorrei leggerlo Uva e Bikazura Furiosa per via della promessa infranta dal suo sposo con la sua fuga Izanami evocò Yomotsu Shikome, la terrificante megera dello Yomi, per fermarlo Izanagi gettò a terra il suo copricapo e si tramutò inducente uva Anche se la Shikome si fermò per mangiare l'uva, l'espediente non rallentò il suo sanguinario in cedere Che strano, si è trasformato in uva Ok Qui abbiamo munizioni massime raggiunte, va bene Proseguiamo Ah, un altro enigma Allora, va bene quello La T rovesciata E Quella che sembra una scatola con una riga in mezzo Quindi Questo Lui E la scatola No, non funziona Un altro simbolo qui Esatto Vediamo cosa fa Ci costruisce il ponte Che porta anche su un carretto Stiamo spingendo questo carretto, no Non serve a niente Posso procedere? Sì, abbiamo capito Altri nemici Eh, attaccami Perché non mi attacchi? Va bene 3000 colpi a caso E ti stordisco, riprendo almeno un po' di HP Va bene Va bene Ok, scendi tu Che ti affetto per bene, eh Ok Bravi tutti I volti di questi spiriti I volti di questi spiriti Ci sono tutti gli uomini che ha ucciso Sono in cerca di una pace che non posso ottenere Che non possono ottenere Ma lì sotto c'è un collezionabile Mi sembra che sia comparso qualcosa lì sotto, eh Scusa, no Voglio tornare un attimo su Giù, giù, giù Allora, la prospettiva qui non è proprio fatta benissimo Però, va bene Ah, non è che sono arco e frecce Va bene Guardate quella sorta di serpentone alla Dragon Ball lì sopra No, di nuovo Ok Non è evocato E io mi recupero anche gli HP su di te Altri? Attaccami, vabbè Mi attacchi tu? Bravo Bravi Ormai troppo forte per voi C'è una perversa bellezza anche in questo miserabile luogo Salviamo Collezionabili, non mi sembra di vederne A parte qui Munizioni E qua Munizioni Ok Procediamo Altri nemici E su di te mi refullo Pure su di te, così impari a colpirmi Altri? Cacchio Vai Fuori tutti Bene, così Easy Ok, siamo dentro una casa nello Yomi Posso passare di qui? No Devo andare per forza su di qua Vediamo eh Di qua si esce Di qua si esce Non so se si vada avanti Proviamo ad andare anche di qua, allora Per vedere se c'è qualche collezionabile Sì Ci sono munizioni, ok Ci sono solo munizioni qua Va bene Uno spreco totale Uno spreco totale Quindi proseguiamo da questa parte Di qua? Non posso andare Ok Ciò che mi attende oltre mi inquieta Se non sbaglio l'aveva già detta questa cosa Munizioni Altre munizioni Anche quest'area mi sembra già vista sinceramente Sta ripercorrendo Gli stessi Capacelle munizioni Gli stessi ambienti di quando era in vita Abbiamo abbastanza di questi giochi È tempo di andare Sarà lo Yomi a stabilirlo Un altro Enigma Cioè così cosa succede? Ah Si vede l'altro L'altro segnale Quindi Lambda Scatola con due righe E Quella sorta di T E Epigreco Ok Vai Questa Poi Tu E Tu Là intanto nel Là davanti ci sono delle cose con quelle statue Che non so cosa vogliono dire Spesso si illuminano a caso Non ho ben capito Posso andare di qua? No Ti posso rossare dire Delle parole sensate infine Cosa c'è di sensato in quello che stai vedendo amico mio? Lo sei solo tu Posso proseguire? Posso proseguire? A quanto pare Proviamo a proseguire? No ok non posso Niente Attiviamo queste statue Allora Ognuna sarà una parte di livello? Vediamo Eh Devo entrare qui Ah no ok Ti fanno Ti fanno vedere il simbolo Ti fanno vedere un simbolo? Eh però qual è Cioè qual è l'ordine scusatemi? Voi provo a far così Magari l'ordine è giusto Ok forse questo è il primo Perché è rimasto su molto più a lungo Proviamo con questo ora Ok pazienza Nope Non è così Proviamo di nuovo Proviamo con il terzo Allora giù là in fondo Tu? Ok Dovere Ora vediamo con te No era sbagliato Ok La combinazione giusta Ora ce l'abbiamo Ci abbiamo messo un po' Un po' trial and error O forse Prima c'erano magari degli indizi Non saprei Però Una volta compreso Si fa Ecco fatto Ecco fatto Coraggio Vamos Tutti gli obelischi Equilibrio Equilibre Qui non posso attivare nulla Tra l'altro mi preoccupa un po' anche la lunghezza di questo capitolo Non siamo ancora a metà in teoria Diario aggiornato Vorrei leggerlo grazie Non so più dire Se sia lo Yomi a crollare O la mia stessa mente Ma finalmente ho ottenuto le mie risposte Infine Conosco il mio scopo So chi sono So cosa voglio Affronterò il demone Kageru Ancora una volta E questo nuovo equilibrio Mi conferirà forza Come mai prima d'ora Vediamo Non possono esserci scorciatoie Ma vediamo se però qui in giro c'è un collezionabile Oltre alle scorciatoie va Perché qua Facile perdersi Munizioni Niente Non credo nulla Qui si muove tutto Uh ancora questi demoni Che vanno uccisi con gli attacchi pesanti Guardali Fuori tutti Ormai loro Non possono nulla contro di me Le ultime parole famose Ora morirò male Proseguiamo Questo mondo si sta scretolando come legno tarlato Altro collezionabile Eh ne ho mancato uno Mannaggia Okamu Usubi no Mikomoto Fuggendo dagli orrori dello Yomi Izanagi Lanciò un pettine contro la mostruosa megera Shikome Che interruppe il suo inseguimento Per mangiare i germoli di bambù spuntati dal pettine I Raijin e il loro esercito Si unirono alla caccia E Izanagi Vedendo che neanche la spada Totsukano Tsuruji Riusciva ad arrestare il loro impeto Gettò delle pesche contro quella folla inferocita Quindi fuggì Delle pesche E davvero non so cosa si siano fumati i giapponesi per scrivere queste cose Allora Munizioni Altro obelisco E qui si salva anche No sono stanco No sono stanco Ok Non posso scattare perché sono ancora in combattimento tecnicamente Aia che male Ma un piccolo salvataggio guardato che non posso mai curarmi con Nuovo collezionabile trovato Totsukano Tsuruji Quella spada di prima Con la sua sacra lama Totsuka Izanagi resistette indomito all'immonda Shikome che lo inseguiva attraverso il regno delle tenebre Tuttavia questa non è altro che la spada perduta dell'ennesimo uomo caduto costretto ormai per sempre a vagare nella corruzione dell'oyomi Attenzione Posso scendere qua? No Ok Altro obelisco Andiamo Altare Ottimo Visioni di ciò che ho perso Altre illusioni Altri inganni Munizioni Mettiamoci Kunai Bene così Bene così Ok Corriamo veloci come il vento su questi ponti perchè ho paura che crollino Da un momento all'altro Aia Fuori tutti Via Munizioni? No nuovo collezionabile E se non mi permette esser di tornare da Aiko Chi lo sa Punta di Naginata Non c'è simbolo migliore dell'amore tra Izanagi e Izanami Della Menonuoko La lancia celestiale Una Naginata Non so quale sia la pronuncia corretta Come questa E con questa dall'alto dei cieli I due kami agitarono i mari e fecero emergere Onogoro Shima La prima terra Lì costruirono il loro palazzo e stabilirono la loro famiglia Non potevano sapere che orrore li attendesse Si dice Che la Menonuoko sia ora tenuta nascosta in quanto può essere usata per distruggere il mondo Così come un tempo fu usata per crearlo Come ti ho fatto ti distruggo Abbiamo energia aumentata Va bene Questo fa sempre comodo E qui non sembra esserci nient'altro Quindi andiamo con il prossimo obelisco Ok Altro altare per salvare Qui ho forse visto qualcosa Sì Però sono delle munizioni Niente di che Qui niente E si prosegue Altro combattimento su un ponte pericolante Va bene Non posso andare più indietro di così Che scam Guarda quanta vita ho perso Per questo muro invisibile Per questo muro invisibile Dannato Qui però abbiamo Saluta aumentata Buono Proprio quando non avevo più bisogno Così mi ha pure curato Ah Ne avevo colpiti due Con un colpo lì Allora devo ricaricarmi un po' l'energia però Eh che cacchio Via subito dal ponte Ok Lì c'è l'obelisco Ma forse di qua c'è un collezionabile Esatto Un nuovo collezionabile trovato Vestito macchiato Scosto dalla terribile esperienza dello Yomi Izanagi Tentò di purificarsi dalla corruzione Bagnandosi nelle acque del lago Misogi Amaterasu Il sole Nacque quando Izanagi Si lavò l'occhio sinistro Tsukuyomi La luna Prese vita dal suo occhio destro Dalla sua bocca si animò Shina Tsuhiko Il vento Dal suo naso Emerse Susanoo La tempesta E dai suoi abiti abbandonati Arriva 12 altri potenti kami Videro la luce È così Che ebbe inizio l'era dei celesti dominatori Ok Qua dentro però Mi sa chi si può andare Esatto E per prendere cosa Munizioni Davvero In questo posto quasi segreto Ci sono solo munizioni Ma dai che scam Che fregatura totale Allora noi proseguiamo verso l'obelisco Sono stanco dagli inganni dell'Oiomi Eh Anch'io inizio ad essere stanco di questi inganni eh Capacità munizioni Nuovo collezionabile trovato vai È il penultimo Questa è un'immagine dell'Oiomotsu Irasaka Il portale del nostro mondo che conduce all'Oiomi Una volta fuggito dalla terra delle tenebre Izanagi ne sigillò l'accesso con un masso Dall'altro lato Izanami la sua defunta amata Accecata dalla rabbia Giurò Che avrebbe trascinato mille anime al giorno nell'Oiomi Izanagi promise quindi Che avrebbe dato vita a 1500 anime al giorno Per contrastare Tale minaccia Beh Conoscevano la matematica Fu così Che la furia vendicativa di Izanami Diede inizio al ciclo della vita e della morte La grande ruota Su cui Io stesso ora giro Mi sto avvicinando alla fine O all'inizio Mmmm Mmmm Preso Pic E ZIK E... Oh, attento te. Cosa vieni da dietro? E si prosegue. Altri nemici. Aia, che colpo che mi son preso. Ho sentito tanto quella. Tu che vieni da dietro come al solito. Stupidi goblin, ghoul, zombie, demoni, quello che siete. Via tutte. Non dovete nemmeno toccarmi. Ok, qui cosa abbiamo? E... Munizioni. L'ultimo collezionabile. Onusa. Ancora oggi, ci purifichiamo come fece i zonagi dopo aver attraversato l'impurità dell'Oyomi, per liberarci dalle contaminazioni e dal peccato. Quando non c'è acqua corrente, la bacchetta nusa può essere utilizzata per scacciare la corruzione. È una visione gradita, per quanto sia consapevole che neanche tutte le nusa della terra sarebbero in grado di purificarmi. Ora. Vediamo un po' come... cosa accadrà. Qui è, munizioni raccolte. Filmato. Ah no, pensavo fosse un filmato. Da quanto era figa questa inquadratura? Pensavo fosse un filmato. Invece no, è gameplay. Ora un filmato. Uh, una boss fight contro di noi. Ah ah, preso. Ti conosco come le mie tasche, potrei dire. Ah ah ah, con i boshuri che ent'ha ucciso. Uccidi i rocchi demoni senza subire alcun colpo. Wow, che obiettivo incredibile che ho preso allora. No damage l'ho fatto, non pensavo. Perchè ora è in inglese? Dovrebbe essere in italiano il sottotitolo. Ok, ha detto che si dovrebbero unire tutti per sconfiggire Kageru. Perchè così sono separati. A grandi linee, non traduco alla lettera. Deve scegliere cosa davvero lo guida. Deve scegliere l'amore, il simboleggiato da Aiko. Il dovere, simboleggiato dal maestro. Cosa scelgo? Oppure possiamo anche rifiutare i doni. Interessante come scelta di roleplay. Io scelgo l'amore. Dammogli un po' di sollievo a questo povero uomo va. Oh la madonna, pensavo andasse a finire così. Ok, lo Yomi ci garantisce un ultimo respiro. Ok? Poi dovranno tornare lì. In pace con se stessi, essenzialmente. Quindi veniamo rispediti come Goku venne rispedito sul pianeta Terra. Per attaccare Majin Buu, noi veniamo rispediti per sconfiggere Kageru. Con questo caricamento, tra l'altro. Quindi stiamo passando di capitolo, tecnicamente. Perchè infatti il capitolo 6 era finito. Con quella boss fight. Questo è l'ultimo capitolo per davvero, allora. Eccolo, Kageru. Madò, cade tutto. Crolla tutto a pezzi. Eccoci alla resa dei conti. Affronta Kageru. Che però faremo nell'ultimo episodio, nel prossimo episodio. Perché questo finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto. Di commentare. E di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video. Ciao. Grazie a tutti.